Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Come avrete letto dal titolo, quest'oggi sono tornati per Cap Ultra Light Dunque mi raccomando ragazzi, superiamo i 100 like per questo video Lasciate like, condividete e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti E ragazzi mi raccomando, date un'occhiata qua sotto ai link che c'è anche quello di Twitch Che da ora in poi cercherò di streamare il più possibile anche là Dunque mi raccomando ragazzi, direi di non perdere altro tempo e via con il video Grazie a tutti 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 Grazie a tutti